ciao ciao a tutti amici ben ritrovati allora sono quasi due mesi che manco dai social e oggi ho deciso di spiegarvi perché purtroppo mi sono accorta un paio di mesi fa di non stare troppo bene e ho cominciato a fare dei controlli e dopo un po è arrivata una diagnosi un po particolare una diagnosi che che mi costringe a stare a riposo ea curarmi per un po di tempo bene sì sono stata colpita anch'io da una malattia che comunque è curabile ma ha bisogno dei suoi tempi per cui da da quasi una settimana ho cominciato una terapia e spero insomma di poter stare meglio al più presto la mia voce non è al massimo un po di voce rauca questi giorni però ci tenevo a spiegarvi lo stesso che cosa è successo e perché mi sono assentata per tanto tempo dai social ovviamente voi siete stati sempre nel mio cuore lo siete lo sarete sempre e spero d'ora in poi di riprendere un po a farmi vedere da voi a farmi sentire vi mando un grosso bacio e vi tengo aggiornati ciao